ah si gira? ah scusate eh bene, allora oggi saremo nella prima parte di questa lunga della nostra storia del commercio che parlerà del commercio tradizionale, moderno, globale e la vita di troppe tradizionale, moderno e globale tutto quanto è benissimo come lo sappiamo da Adamo ed Eva tutto quanto parte quella famosissima mela prima di cominciare un po' di birra, cosa almeno ecco qua allora dove è rimasta Adamo ed Eva Dio disse ad Adamo tu puoi avere quello che vuoi basta se non tocchi la mela e Adamo ma che cazzo mi frega mai della mela eh Adamo dice al nostro Dio io voglio essere il padrone del mondo e lui e di Dio tu sei l'unico sovrano al mondo e Adamo io voglio essere l'uomo più ricco del mondo e Dio tu sei l'uomo più milionario del mondo e Adamo io voglio avere una grande macchina e Dio io ti darò la Lamborghini rossa e Dio bene bene mentre Eva tu vuoi Eva Eva più ne voleva e come tutte le donne mai contenta vabbè poi passavano i giorni passavano gli anni alla fine il signore il signore disse Adamo e Eva io vedo tutti come due fratelli due cugini due sorelle due parenti ma vi ricordo non toccate quella mela quella profumata Adamo e Eva sì 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 passavano gli anni due mesi però alla fine tutte quante le donne soldi delle donne sempre loro in mezzo sempre ma sempre non dico niente i curiositi Eva voglia della mela e via tac Eva rubò la mela giorno dopo Dio ci ha rubato la mela e Adamo ma non so proprio un ca niente Eva tu hai rubato la mela ed Eva c'è niente c'è niente c'è niente alla fine Dio interroppò il serpente tu serpente sai qualcosa il serpentallo era interista e come erano tristi sempre che l'arrivo ai due giuntini disse è stata Eva così il serpentallo bel contento c'è niente c'è niente interista fece la sussolta figura da fetente ecco è interista allora Dio disse Adamo e Deva avete sconfitto nel cuore voi due fuori dal mio partito terrestre e così finisce qui la parte la prima parte del commercio tradizionale e coppia prossima parte sarà praticamente l'uomo primitivo e la vita di coppia la base e con questo è tutto un bau bau a tutti e buona birra a tutti quanti bau 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 Grazie a tutti